Siamo al seminario di Rigas, dai fossili al sole, con Angelo Consoli, presidente del CETRI, e gli chiediamo un approfondimento su una tematica veramente importante, il rapporto tra che c'è tra energia e potere, potere finanziario, potere economico, ma anche potere di strutturare una società. E quindi anche delle possibilità che un cambio di paradigma dell'energia, della produzione e della diffusione di energia, può aprire per liberare energie, e per liberare possibilità per tutti, per una maggiore giustizia e una maggiore dignità di tutti e tutti. La seconda rivoluzione industriale si è sviluppata sulle fonti energetiche concentrate, il carbone prima, poi il petrolio, il gas naturale e l'uranio. Queste fonti energetiche concentrate, per essere sfruttate in modo ottimale, presuppongono l'impiego di capitali molto intensivamente e quindi presuppongono il giardino fertile, il giardino di cultura tipico dell'economia finanziaria, soltanto che dispone di ingenti quantità di capitali finanziari può andare a estrarre il petrolio, impegnarsi in infrastrutture mondiali come gli oleodotti, le raffinerie e così via. Per cui lo sfruttamento delle fonti fossili e fissili, quelle concentrate, ha determinato non soltanto tutta l'entropia chimica che conosciamo, l'inquinamento, il cambiamento climatico, ma anche una forza entropia sociale, perché le fonti fossili e concentrate dell'energia hanno determinato una concentrazione anche della ricchezza. Questa concentrazione della ricchezza evidentemente i gruppi di potere finanziari e i gruppi monopolistici dell'energia la difendono a spada tratta perché i loro business models sono abituati a fare soldi soltanto così, però con il sole, che fornisce 15.000 volte più dell'energia che noi consumiamo, quindi infinitamente di più dell'energia delle fonti fossili concentrate, oggi è possibile sviluppare una nuova economia, una economia nella quale i profitti, i redditi dell'energia si redistribuiscono su una molteplicità molto più ampia di attori. Stiamo passandoci a un modello energetico che non è soltanto compatibile con i cicli del sole e quindi a impatto entropico inferiore, ma è anche il redistributore di ricchezze. Quindi la lotta al cambiamento climatico è anche una grandissima occasione per creare le condizioni anche per una nuova socialità nella quale la ricchezza si è redistribuita e ci sia una maggiore giustizia sociale. Questo presuppone naturalmente una redistribuzione della ricchezza perché le grandi rivoluzioni non avvengono mai a costo zero, c'è sempre qualcuno che ci perde. È chiaro che i grandi potentati dell'energia qualcosa dovranno cedere, i grandi monopoli dell'energia qualcosa dovranno cedere. In Arabia Saudita, così come in Libia, così come in Qatar, eccetera, non mi immagino che le cose continuino nello stesso modo se si cambia ciclo energetico e anzi c'è una forte interrelazione fra energia e democrazia perché, come dicevo, le fonti energetiche fossili e concentrate presuppongono regimi forti, dittatoriali per poter essere sfruttate a meglio. Se uno Stato basato su queste fonti o che dispone di queste fonti energetiche non cambia cicli energetici, non passa dal ciclo del carbonio al ciclo del sole, prima o poi la casta dominante di quello Stato riprodurrà un regime dittatoriale. È inevitabile, è la sindrome di Masaniello che si applica a livello planetario, per cui noi avremo o in Tunisia, in Egitto e in tutti gli altri paesi nei quali gradualmente le rivoluzioni arabe prenderanno il potere si cambiano anche i cicli energetici, il modello energetico, oppure questi paesi ritorneranno fatalmente verso la dittatura, mentre invece se si cambia il ciclo energetico, si va verso i cicli del sole, si entrerà gradualmente nell'ordine di idee che l'energia appartiene a tutti, la ricchezza appartiene a tutti, deve essere redistribuita e anche il potere deve essere redistribuito. Quindi il rapporto che c'è tra energia e democrazia è chiarissimo, le fonti energetiche fossili concentrate creano ricchezza concentrata e poi creano potere concentrato le fonti energetiche solari, cioè le di origine solare, che sono diffuse e distribuite e interattive, creano ricchezza a livello distribuito e interattivo, creano ricchezza in rete, esaltano le reti, nella rete ciascuno ha un ruolo, nessuno è senza funzione, e in questa economia dei network alla fine si consolida anche la democrazia sia nei paesi che verso un maggiore grado di democrazia hanno bisogno di ritornare, come per esempio l'Italia, sia nei paesi di nuova democrazia come quelli nei quali si sono affermate le rivoluzioni arabe. Grazie.